Ma come ci hanno fatto a scoprire le consolini? Non lo so Come avete fatto ragazzi? E guarda Che cosa vuol dire questa cosa? Mi sta inquietando parecchio È il caso degli illuminati Oh yeah L'ho appena trovato anch'io Oh yeah Ci sto mettendo una vita a prenderlo No vabbè c'è proprio Che bello Per concludere con la ciliegina sulla torta Capito? Sono felicissima E ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef E questo è Gigi che è Maroblox Ed eccoci qua con il secondo episodio di Azure Minds Il primo ragazzi vi è piaciuto tantissimo Ci avete riempito di likes, di commenti E quindi siamo tornati prontissimi a minare Esattamente il supporto per questo primo video è stato davvero davvero incredibile Quindi ragazzi continuiamo così perché vogliamo fare una miniserie da 4-5 episodi in base a quante cose ci sono da fare Esatto Come potete vedere sono tornato con il mio personaggio principale E ho qualcosina in più fatto secondo me rispetto all'altro video Sì erano tutti spaventati Vero? Ti dico la verità Sì 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 tutti Ma no Stef torna con la tua skin Non cambiare personaggio Perché sono bellissimo E quindi capisci L'altra era molto brutta in effetti Sarebbe stato un disastro E poi dai Volevi abbandonare Capitan Jeff così presto Non lo farei mai Non credo Allora il Research and Development Non mi ricordo Se ce l'avevo all'1 o al 2 Comunque in questo caso ce l'ho al 2 Quindi è davvero davvero potente Poi abbiamo il Data Analyze portato al 2 E soprattutto lo Storage Quindi posso minare 700 materiali Prima di tornare a casa Uno dei consolini mentre non c'eri Mi ha fatto vedere un passaggio segreto Io ti odio Fai sempre le cose senza di me Lo so Allora Signor Maielino ti distruggerà Sappilo No 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 Perché io adesso ti ci porto E quindi mi perdoni No non ti perdonerò mai Ti sto per mostrare qualcosa di bellissimo Ma dove stiamo andando? Oh mio Dio Ahah Dove stiamo andando? Sì sì È solo l'inizio mia cara Cioè ma io posso prendere anche quel rubino lì in alto? Se ci arrivi sì È impossibile Lo so Signor Maielino fammi volare Seguimi seguimi perché tanto quello non è nulla Adesso tu passi così Oh mamma Vai in superficie Guarda quanti materiali ci sono Nooo Ma che posto È fantastico Ma è fantastico E non è finita Per ora prendi i materiali che vuoi Li vedo un zaffiro Te lo lascio Ma come vuoi arrivare lì in alto? Praticamente premi Il sinistro Salti sinistro E stai ferma E ti si forma un blocchetto Che ti tiene Ma quanto stiamo andando in alto? Dove sei? Mi vedi? Ancora più in alto Aspetta Aspetta Oh sto scalando Aiuto Ci sei? Più o meno Devi venire qua dove sono io Ma come stai guardando? Non è finito Il passaggio segreto è ancora più avanti Come non è finito? Ma come ci hanno fatto a scoprire le consolini? Non lo so Come avete fatto ragazzi? E guarda Cosa vuol dire questa cosa? Mi sta inquietando parecchio È il caso degli illuminati Aiutatemi Non so se per notare che ti ha dato una medaglia Pensa arrivata qua Forse non l'hai vista No non l'ho vista Allora Ah è come l'ha detto adesso Ok Mi stai dicendo che sono un illuminato Sì Cioè quello mi stai dicendo Lo sapevamo già E qua Se tu hai 30 octanium Puoi comprare una bibita speciale potentissima Ok Però non ce li hai Vero? No non ce li ho Ne ho 23 però Non sono così Così lontana Perché tu l'hai comprata? Sì 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 Ce l'hai adesso? L'ho lasciata nell'inventario Però ce l'ho Disgraziato E che cosa fa la bibita? Non te lo dico Mi sono incastrato Facciamo un bel discorsetto Un bel discorsetto Siamo chiusi qua No non riesco a girarmi Aspetta Ecco ok Ciao Ok sì Signor Maialino in questo momento ti sta parlando È molto offeso Perché tu non gli hai fatto sapere di questo posto nascosto Ma ve l'ho mostrato subito E ha detto che lui però non è un illuminato Proprio citino a chiarire che a lui non interessa Infatti lui non si è preso È superiore anche agli illuminati Signor Maialino Sì sì Lui è proprio in un mondo In un mondo tutto suo Mentre parli me l'hai fatto Vai 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 Prima di andare in miniera Cerchiamo di capire di che cosa abbiamo bisogno Allora per portare il marketplace al 2 Perché io ce l'ho ancora l'1 Ok Mi servono tre topazzi Ok Quindi mi servono un po' di topazzi Poi qua mi serve Uno di questo che credo sia smeraldo Questa roba verde Eh no Sai che non lo so quello Non è lo smeraldo Secondo me è diverso dallo smeraldo Lo smeraldo è verde più scuro Quindi secondo me non è quello Mentre per questo 5 rubini E 5 di zafiro Che non è neanche troppo difficile Ok ok Questo invece è 35 di bronzo Ok 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 Per quello ci verranno al po' di tempo Ho capito comunque Bronzo Ferro E poi un po' di quelli proprio super mistici Quindi sei qua ti dico Ok Visto che abbiamo sbloccato 400 metri da parte tua per andare in profondità Ok Ce ne andiamo super in basso Ok Ci sto ci sto ci sto 230 metri Perfetto Vediamo un po' Uh rubino Uh quello lo prendo io Maledizione Eh vabbè dai Per prendermi il rubino Non ho resistito scusami Ho perso l'obutano Allora come c'è uno zafiro qui sopra Come ci organizziamo? Ok Cioè che intendi? Perché praticamente Allora Ok Non voglio che ci rubiamo troppi minerali Però non vai Ma andiamo così insieme Miniamo un pochettino Ok Dai L'obiettivo è trovare una bella miniera Secondo me Troppo separati insomma Esatto esatto Io volevo trovare una bella minerozza Ok E a quel punto ognuno si prende i suoi materiali Sì perfetto ci sto Mi va bene Mi va bene Una bella miniera Uh trovata Trovata Sì vieni 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 Allora Aspetta Allora io ce l'ho una torta Piazzala Piazzala La mettiamo tipo Sì Qua Secondo me va bene E quello che cos'è? Ah copero ok Va bene lo prendo Allora io prendo un sacco di cose Allora così vediamo un po' meglio Però mi sembra che ancora sia molto triste Anche secondo me non mi sembra una miniera Molto Molto piena di minerali insomma È proprio una schifezza C'è qualcosa Vabbè per ora prendiamo questi Poi magari ci spostiamo Abbiamo trovato la prima e troviamo anche qualche altra cosa un po' più ampia Eh però per essere a 235 metri Boh Sto iniziendo a pensare che forse ci conviene andare ancora verso il basso Non ci credo una miniera giusta giusta Uh bellissima A 300 metri Topazio Allora torcia Torcia subito Ok piazzala 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 Aspetta che non vedo niente Io non vedevo nulla ma ho visto subito il topazio Allora la mettiamo Expe se ti interessa Non è molto però mi serve Mi serve per potenziare le cose nella base No 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 Sai cosa serve? Cosa no? Serve a potenziare il piccone Uh bello Quello me lo faccio subito Prima delle cose della base Il piccone dorato Anche se credo che prima però devi per forza fare quello con gli smeraldi Che purtroppo non troviamo mai Noi abbiamo qualche problema Probabilmente anche quelli più in profondità Che dici Non lo so Non so a che altezza si trovino gli smeraldi Che hai trovato? Così buco e mi trovo un octanium Oh che bello Un'altra di gold Ok Bellissima Bellissima C'è un sacco di roba Comunque ho fatto anche 12 di bronzo Che sinceramente Ho sempre difficoltà a trovarli E 12 non sono per niente male Comunque ci tengo a dire che sta torcia fa proprio schifo Cioè non fa luce Ti giuro a un certo punto mi è venuto il dubbio che si fosse spento Per quanto non fa luce Esatto Probabilmente ne vanno comprate tante capito Le devi piazzare in tutta Perché quando sei dentro poi hai notato che non ne puoi craftare altre anche se i materiali Esatto Quindi devi craftartele e poi scendere in miniera Capito Quindi ricordiamoci più torce Più torce Quindi c'è a testa Sì assolutamente Sì facciamo una casa di torce Non si vede nulla poi Non si vede nulla Scusate C'è qualche bel materiale Soprattutto in alto Perché in basso almeno ci passi sopra Sì ci passi sopra lo vedi Ma in alto in alto non si vede niente Aiuto Oh mio dio Andando ancora di più verso il basso Finalmente Comunque ci dobbiamo fermare Stai attento io sono al limite E credo Guarda Che conviene arrivare giusti giusti no? Dici proprio giustissimi Boh Non lo so Vabbè dai proviamo Non lo so Fai attenzione Fai attenzione Solo che trovare quello smeraldo mi proprio fa venire voglia di continuare a scendere Aiuto Fermati 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 Siamo al limite Dai dai basta così Allora da che parte andiamo? Speriamo di trovare qualche bella miniera Proficua Beh bella piena di minerali Eh non lo so Allora da che parte non ci muoviamo? Facciamo un po' tutte le direzioni Capito? Scava un po' a casaccio fino a quando non troviamo un buco Ok Ok ci sto Perché tanto secondo me solo nei buchi troviamo un sacco di roba Altrimenti troppo lento Guarda l'oro prenditelo Uh grazie Te li lascio perché tanto ne ho sei Credo che ne servirà tantissimo anche di oro Però Sì anche secondo me Visto che ne ho parecchio te ne lascio Anche il zafiro ce ne sono due qua se li vuoi prendili perché io ne ho tredici Wow ma quanti ne hai trovati? Eh parecchi Trovata 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 Ma come ti trovo aiuto Eh non lo so Devi trovare la mia stradina Allora Secondo me tornando indietro la trovo da questa parte Ti dico solo che sono cascato e subito smeraldo Quindi pensa che posto è Allora da che parte stai andato da questa? La sto trovando La sto trovando eh Ok dai 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 Eccomi Sei scesa? Più o meno Allora questa stradina è fatta no? Eh non lo so Sì 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 Eccomi Altro smeraldo Altro smeraldo Wow dove sei? Aspetta ti metto una torcia Ecco ti metto qua Così almeno vediamo un pochettino meglio Sono a tre smeraldi A cinque posso farmi un nuovo piccone Bellissima Dobbiamo trovarli Dobbiamo trovarli Allora cosa c'è qua? C'è qualcosa? Allora Sto pazio Oh yeah L'ho appena trovato anch'io mio dio Oh yeah Ci sto mettendo una vita a prenderlo No vabbè c'è proprio Che bello Per concludere Con la ciliegina sulla torta Capito? Sono felicissima Almeno un bel diamante Un bel diamante È stato bellissimo Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo sinceramente No guarda io sono ancora due ore a fare il mio Però sono felicissima È bellissima Quanta exp? No non sono riuscita a leggere Come nelle lettere? Lì davanti Eh non so Non mi è sembrata tanta Piedo perdono Non mi è sembrata tanta Vabbè smeraldi ti giuro Ne potrei vendere Ricordiamoci che appunto Quattrocento metri Perfetto Se ne trovano tantissimi Beh ne ho fatto otto È certo È più di tanto Capito? Quasi quanto il ferro lo trovi Quando arrivi così in basso Assolutamente sì Mi sa che mentre finisci quel Quel bellissimo Diamante Da due ore e mezzo Eh beh i diamanti Io inizio a tornare in base A potenziare le cose Capito? Le devi sudare Sì Così almeno vedi qualcosa Mentre stai lì Ferma Per segnare A tenere il tasto premuto Sì Recito qualcosa Vuoi una bella poesia? Sì grazie Non le conosco mi dispiace Il fiore nella luna Brillava nei cieli Come se fosse un tulipano Che Che si luccicava Divino Bellissimo Incredibile Scimofa Magnifico Che non c'è Quasi finito Così finito Ok allora Vediamo l'Exp Perché non l'hai letta Quindi voglio Cioè sono curiosa di vedere Sì infatti Io mi sto Deve mettere prendendo Le cose nella base Muoviti Exp Exp Quattrocento Quattrocento Che schifezza Che schifezza Ascolta Torno in base pure io Torno in base Perché comunque Ho un sacco di cose Ma poi minare a quella profondità Stava diventando davvero davvero pesante Quindi preferisco Potenziarmi le cose E poi eventualmente tornare Ok Allora Aspetta un attimo No voglio venire anche io A potenziarmi il piccone Aspetta Ma non c'è bisogno di andartene via Ah lo posso fare anche da casa Ah ok Sì Ma ce li hai cinque smeraldi? No E a lei non puoi Ne ho uno Non me li regalate Mi avevi detto che si poteva usare anche l'oro Guarda Però io ho preso un sacco di oro E infatti l'oro è per quello dopo 15 copper 10 gold 25 di coal Capito? Ambrogliato Guarda però Spì Ambrogliato Guardami Guardami Allora faccio un sacco di torce Guarda come verde È troppo carino Lo voglio anch'io Poi vediamo se riesco a potenziarmi questo Allora 35 Eh me ne chiedi proprio tanto Me ne chiedi proprio tanto Vediamo il segno depositato un pochettino Ti ricordi che ti avevo detto che ti avrei dato del copper? Sì Ecco Non puoi Non succederà Sei un bui giardo Sei un bui giardo Me ne sta chiedendo 35 Ah ma non ce l'ho neanche per me Ok Ho trovato una mini rozza e mi sono messo tipo 10.000 piconi Cioè 10.000 torce Torce Per vedere Comunque allora mi sono fatto 45 di ferro 55 di argento 10 di rubini Una metista 9 di copper Insomma ho fatto un gran bel bottino Non male non male Sì Sì Sono già quasi di nuovo pieno a 700 Wow Forse sto esagerando un po' che dici Sì direi Direi proprio di sì Assolutamente Anche io ho trovato una mini miniera Però ho trovato tantissimi Zaffiri e rubini Sinceramente speravo più di trovare qualche smeraldo Però invece non mi è dato delissimo Ma perché lo smeraldo è molto in basso Eh lo so Non ci sono arrivata così in basso Bisogna averne voglia Che ti picconare come una pazza Sì mi stavo un po' annoiando E poi soprattutto hai bisogno della borsa almeno da 700 Secondo me No quella ce l'ho Te l'ho detto L'ho potenziata Te l'ho anche detto Mi hai detto brava e non mi ascolti Scusami Lo sai benissimo che io non ti ascolto La persona terribile Te lo dico sempre Non ti ascolto La persona più terribile sulla fascia della terra Quella è sicuro Mi prendo tutto l'argento che ho Mi prendo tutto il copper Tutto il ferro Gli smeraldi Il gold I rubini I zaffiri Cioè ho 35 zaffiri Wow Sono decisamente troppi Anche io guarda Mi ho preso i 20 solo stando qui sotto Cioè ho trovato proprio un Capito Un covo di zaffiri È stato assurdo Comunque Cosa stai andando a potenziare? Questo è il potere divino L'hai portato a livello? 3 Ok Mille di profondità Wow Mille Io quello l'ho appena portato al 2 Al 3 proprio me lo sogno No vabbè Chiede 50 di bronzo e 45 di ferro Dopodiché Wow Mamma mia ma quanto ci vorrà potenziare Il piccolo di bronzo ci servirà a vita Ok Perfetto Allora poi 50 di ferro e 35 di silver Per portare il mining operation a livello 4 Eccolo qui Perfetto Dopodiché cosa chiederà? 3 diamanti E 100 di ferro Ok ricordati che anche il ferro ha vita Sobrio Questo chiede un materiale che proprio non ho Questo chiede troppe cose Ok E forse riesco a finire con questo 70 82 Sì Storage Livello 3 Wow Bello Guarda ha aggiunto la terza cest Che carino E posso tenermi 1300 adesso Cioè E vabbè Ci rimani due giorni Miniera Beh d'altronde se vuoi scendere fino a 1000 di profondità Si può arrivare Guarda Non so fino a quanto Però ho visto player arrivare addirittura fino a 2000 Anche a 2000 Quindi immaginati quanto si può scendere Anche perché ci sono ancora tanti minerali Che non abbiamo trovato Esatto esatto E poi l'obiettivo più grande Che ovviamente è farsi il proprio tunnel Io sono assolutamente a 13 di 300 Io ne ho 29 su 300 Quindi siamo messi malissimo Su questo siamo d'accordo Siamo davvero messi male Uh aspetta Aspetta forse ci riesco Mi chiede di vendere Ok Allora Di vendere 1400 di pietra E mi da 3200 gold Ok Scusi Ah no è al contrario Niente Si è confusa Sì Beh ragazzi vi vi piacciono il video Se vi lasciateci mai il like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao